La cogenerazione è una tecnologia di efficienza energetica che recupera il calore che si genera sempre quando si produce energia elettrica con un sistema a combustione, che sia una turbina o che sia un motore. Prendiamo il caso di una centrale elettrica costituita da un motore a combustione interna. Questo motore utilizza energia primaria, combustibile, per esempio gas metano e produce energia elettrica e produce molto calore. Nelle grandi centrali elettriche questo calore viene disperso nell'atmosfera. Se ci si organizza invece per recuperare questo calore e utilizzarlo, si fa della cogenerazione e il calore recuperato riesce a ridurre e evita che si produca, che si utilizzi altra energia primaria, quindi altro combustibile fossile per produrlo. Abbiamo un esempio molto comune a portata di tutti noi di cogenerazione, che è il riscaldamento dell'automobile. D'inverno quando noi accendiamo il riscaldamento dell'abitacolo, noi scaldiamo l'abitacolo dell'automobile, ma non stiamo consumando della benzina in più, stiamo recuperando il calore prodotto dal motore che altrimenti sarebbe stato disperso dal radiatore dell'automobile. La cogenerazione produce due tipi di vantaggi, un vantaggio economico perché riducendo il consumo di combustibile primario si spende di meno e un vantaggio ambientale perché riducendo il consumo di combustibile primario si emette meno CO2 nell'atmosfera e lo CO2 è un gas clima alterante, cioè uno di quei gas che contribuiscono all'effetto serra, al cambiamento del nostro clima e che stanno producendo danni importanti all'ambiente. In questo modo a parità di consumi si ottiene un significativo risparmio di energia primaria, cioè si riesce a ottenere la stessa quantità di energia elettrica e la stessa quantità di calore consumando meno combustibile. Proviamo a fare un esempio aiutandoci con questa figura. La figura si legge da destra verso sinistra. Immaginiamo di avere un'utenza che consuma 35 gigawattora di energia elettrica e 50 gigawattora di calore. Con i rendimenti convenzionali per produrre i 35 gigawattora di elettricità occorreranno 70 gigawattora di combustibile e per produrre i 50 di calore ne occorreranno 62,5 di combustibile, quindi in totale occorreranno 132,5 gigawattora di combustibile. Invece in questa seconda figura vediamo cosa succede con la cogenerazione. Abbiamo la stessa quantità di energia, quindi 35 gigawattora di elettricità e 50 gigawattora di calore, ma utilizziamo soltanto 100 gigawattora di combustibile, quindi abbiamo un risparmio di oltre il 25% nell'energia primaria, cioè nel combustibile che viene utilizzato per produrre l'energia. Questa è l'efficienza. Possono beneficiare di questa tecnologia tutti i siti che presentino un consumo contemporaneo di energie elettriche e di calore continuo durante l'anno, quindi di giorno e di notte, lungo la settimana, di estate e di inverno. Si tratta prima di tutto di grandi sistemi industriali, quindi sistemi che utilizzino il calore come energia di processo per fare dell'essicazione, per fare delle lavorazioni tecniche, però anche di siti del mercato residenziale o terziario che utilizzino il calore come acqua sanitaria, nel caso del residenziario è l'acqua che usiamo in casa tutti i giorni per lavarci, per la cucina, nel caso del terziario si può trattare di supermercati, di case di riposo, di piscine, di comunità per esempio che hanno bisogno di acqua calda tutto l'anno.